Cosa ricordi di più simpatico che ti è rimasto di più negli anni in cui anche tu eri tra il tanto del liceo? Nel primo liceo mi ricordo di avere un amico molto importante e forte, mi ha cambiato praticamente la vita, era un genio perché voleva essere un scienziato grande. Grazie a lui anch'io mi sono appassionato di leggere e studiare, mi ha insegnato questi dialoghi socratici, fai una domanda, magari c'hai una teoria, dici che questo è giusto, l'altro ti fa una domanda e cerca una risposta, tu dai una risposta se la tua risposta è contraddittoria con la domanda e l'altro senza dire niente provava che tu sei sbagliato. Da lì è partita la mia voglia di studiare anche giurisprudenza perché in America la giurisprudenza si insegna tramite, con dialoghi socratici, un'amicizia che può cambiare la vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!